C'è vasto cordoglio nel mondo della scuola perché questa mattina si è spento dopo una malattia Gianpaolo Binelli, ex preside dell'ISI Marconi. Aveva 64 anni, lascia la moglie Gianna Arvedia, ex preside del liceo Gioia, e due figli. I funerali sono previsti domani. Binelli era stato anche al timone delle scuole Carducci e Alberoni. Un passato da sindacalista come responsabile della CGL Scuola negli anni 70, era stato anche assessore alla pubblica istruzione negli anni 90. Una persona solare con un grande senso del dovere e una grande bontà d'animo, lo ha ricordato così Paolo Negri, ex vicepreside dell'ISI Marconi. Un ricordo di tipo professionale, io appunto essendo stato vicepreside per parecchi anni con lui, ricordo in lui una grande professionalità. Sicuramente Binelli è stato un classico uomo di scuola, cioè sicuramente è stato un uomo di scuola per la sua alta professionalità. Ha sempre riuscito a gestire la scuola, secondo me, in un modo molto attento, cercando di essere sempre al passo coi tempi, sia per quanto riguarda la gestione della normale amministrazione, che seguendo punto per punto tutte quelle che erano le innovazioni, che si presentavano in un mondo variegato come la scuola. Cercando sempre di essere aggiornato per poter dare all'istituzione che presiedeva il meglio di se stesso, e quindi far anche apparire la sua scuola sempre all'avanguardia, al passo coi tempi. L'altra cosa che posso ricordare è la sua umanità e il rapporto che lui ha sempre avuto, molto umano e personale, nei confronti sia degli insegnanti che delle famiglie che dei ragazzi. Sembra retorico e forse per alcuni sarà banale, però ricordo che io di Binelli è di una persona buona, di cui ho il privilegio di essere stato amico. Grazie a tutti.